Stiamo pensando anche a mettere a servizio della popolazione che sta ospitando le persone nelle proprie case le offerte che abbiamo raccolto distribuendole nel territorio. Sostenere la generosità di chi in queste settimane ha deciso di accogliere i profughi dall'Ucraina in fuga dalla guerra. La Caritas di Vittorio Veneto si è attivata in due vie. La prima per chi ha offerto la propria disponibilità attraverso la Caritas stessa. La seconda per chi ha seguito altre vie ospitando personalmente i profughi. Con i primi, quelli seguiti da Caritas Vittorio Veneto, attiviamo l'erogazione di 25 euro settimanali a persona per gli adulti e 10 euro per i ragazzi, per i minorenni. Mentre per chi invece ha seguito questa fase di accoglienza in modo autonomo, mettiamo a disposizione sulla base degli abitanti dei comuni, presso i nostri centri di ascolto, una cifra proporzionale appunto agli stessi abitanti dei comuni. Un contributo concreto dunque all'interno di quella rete tra tutti i soggetti coinvolti, che vede comuni, ULS, Caritas, centri di formazione degli adulti, lavorare insieme per offrire la migliore accoglienza possibile a chi, soprattutto donne e bambini, fugge dalla guerra. Quando abbiamo raccolto le ospitalità di chi voleva ospitare al proprio interno, nelle proprie famiglie, nel proprio appartamento, i profughi ucraini, abbiamo stabilito fin da subito che doveva essere un atto di generosità, dove ci si impegnava, diciamo così, a mettersi a disposizione al 100%. Ecco, riteniamo un atto di gentilezza e di gratitudine anche da parte nostra come Caritas, a questo punto dare un piccolo contributo alle spese che sono state affrontate. E ricordo che alle persone che ospitano noi diamo una tantum 150 euro, quindi una cifra limitata a sostegno delle spese.